Ben ritrovati cari amici, sempre qui nel caos, nel cortile, in tornare a casca e non se ne può più, ormai nessuno rispetta gli orari, mamma mia che schifo. Allora, oggi si è chiuso il quadro sulla prima giornata del campionato giovanile di Serie A1 Primavera 2021, non so come mai la partita è stata giocata alle 11 anziché all'orario che io mi ricordo solito delle 15, Torino-Lasio 2-3. Subito Dragone al primo tempo, Selese al secondo per il Torino, pareggia subito l'Alasio con Moro al terzo, Franco rigore al ventinovesimo. Nella ripresa abbiamo il pareggio di Guerino al settantanovesimo e l'ottantasestesimo rigore di Moro. Quindi per la Lazio match nel segno di Moro che si guadagna i primi tre punti. Per quanto riguarda la classifica, quindi a questo punto abbiamo il quadro completo, a tre punti Inter, Lazio, Sassuolo, Roma, Bologna, Milan, a un punto Atalanta, Juve, Genova, Spal, a zero Torino, Emboli, Ascoli, Fiorendina, Cagliari e Sampdoria. Quindi rilancio la linea allo studio ribadendo, nel posticipo che è avuto la prima giornata del campionato di calcio giovanile Serie A1 primavera 2021, Alassio batte il Torino in casa da Torino per 3 a 2. Grazie a voi tutti, tra un pochino arriva il terzo e ultimo momentaneo video. Buona settimana, alla prossima, ciao! Ciao!